Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Stefania. Come avrete sicuramente letto dal titolo oggi parliamo di un prodotto appena uscito in casa Bottega Verde. A settembre ho partecipato al contest che Bottega Verde appunto aveva promosso per pubblicizzare il lancio del nuovo prodotto. Il nuovo prodotto è proprio questo qui e cioè il rossetto liquido rimpolpante ad effetto lacca di cui è testimonial Adriana's Pink. Tra tutti coloro che partecipavano al contest venivano sorteggiate 500 persone che potevano diventare beauty tester del nuovo rossetto rimpolpante. Sono stata sorteggiata e il 2 ottobre ho ricevuto il messaggio, un'email, in cui Bottega Verde mi diceva di riccarmi in negozio e appunto di ritirare il mio omaggio. In negozio ho trovato l'espositore con la fotografia appunto di Adriana, testimonial del nuovo prodotto, e nuove tonalità del rossetto liquido rimpolpante. Io ho scelto il numero 3 che è il color cannella. Da quando ho ritirato il mio rossetto non faccio altro che testarlo ma è soltanto una scusa per poterlo indossare. Ogni giorno e in ogni occasione posso tranquillamente sfoggiarlo proprio perché mi piace il colore, è un colore pieno, è morbido e proprio lo si sente sulle labbra, leggero. L'effetto lucido lo rende un po' più glamour. Una delle caratteristiche di questo rossetto è che contiene acido ialuronico che aiuta le labbra ad essere più levigate, le riempie e quindi le rimpolpa. E l'effetto lacca rende alla vista le nostre labbra più voluminose. Quindi otterremo un risultato finale con labbra luminose ed un effetto pieno, confortevole. Le labbra sono idratate e morbide. Come dicevo all'inizio di questo rossetto ci sono nuove tonalità di colore. Se volete provare il nuovo rossetto liquido rimpolpante di Bottega Verde non vi resta che recarvi in uno dei centri Bottega Verde, in uno degli store oppure ordinarlo online sul sito di Bottega Verde appunto e scegliere la tonalità che fa più al caso vostro. Per quanto mi riguarda posso dire che ho utilizzato, sto utilizzando il rossetto liquido rimpolpante da più di una settimana e mi ci trovo davvero bene perché mi sento bene indossandolo. Mi ci trovo bene o l'ho messo alla prova, l'ho testato un po', ho bevuto, mangiato, parlato con questo rossetto. Sicuramente non è un rossetto no transfer, assolutamente no, ma è un rossetto di quelli che si possono stratificare. Quindi ogni volta che si beve qualcosa o si mangia qualcosa o si è parlato talmente tanto, se ne occorre basta prenderlo e risistemarlo. Il mio video termina qui, spero ti sia piaciuto. Non dimenticare che per sostenermi basta lasciare un like, commentare il video, condividerlo e ovviamente se non sei ancora iscritto iscriviti al canale, spunta anche la campanella in modo da essere avvisato ogni volta che pubblico un nuovo video. Ciao e alla prossima!